Il PM della Procura della Repubblica di Trani Michele Ruggero ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per 19 persone coinvolte nell'inchiesta denominata Sistema Trani, che aveva portato all'arresto dell'allora sindaco, avvocato Luigi Riservato e diversi amministratori funzionari comunali e politici, tra cui anche l'ex vice sindaco Giuseppe Di Marzio, l'ex amministratore unico di Amio, Antonello Ruggero, il funzionario comunale ex responsabile dell'ufficio appalti, Edoardo Savoiardo, e gli ex consiglieri comunali Maurizio Musci e Nico Damascelli. Proprio per l'ex sindaco Gigi Riservato, tuttavia, cade l'accusa di associazione per delinquere, per cui era stato arrestato il 20 dicembre del 2014. Tra i capi di imputazione, la turbativa d'astra, il peculato, la corruzione e concussione e diversi falsi, l'inchiesta denominata appunto Sistema Trani aveva scoperto un sistema fraudolento, fondato su logiche clientelari, che avrebbe comportato, secondo l'accusa, turbativa in diverse gare pubbliche. A seguito della medesima inchiesta, è stato anche arrestato due anni dopo, nel giugno del 2016, Sergio De Feudis, responsabile dell'ufficio ragioneria del comune di Trani, accusato di aver alterato le procedure contabili del comune al fine di interferire nell'iter di affidamento dei servizi comunali, causando anche danni economici all'ente. E' stato richiesto inoltre il rinvio a giudizio anche per l'ex vice sindaco Giuseppe Di Marzio, per l'ex amministratore unico Di Amio Antonello Ruggero, per gli ex consiglieri di centrodestra Maurizio Musci e Nicola Damascelli, per il funzionario del comune Edoardo Savoiardo, Elsa Coppola, Ianco Tedeschi, Claudio Laricchi e Pasquale Mazzone, ex segretario generale del comune di Trani. Oltre a Francesco Lupo, Massimo Alette e Nicola Lisi della Sicur Center di Palermo. Grazie a tutti.